Il San Filippo si conferma terreno fertile per il Foggia che batte il Messina con un perentorio 3-0 e conquista la sesta vittoria nelle ultime otto partite. Tre punti che consolidano il piazzamento in zona playoff e consentono di strizzare l'occhio ad una scalata che numeri alla mano resta ancora possibile. Non inganni però il punteggio perché l'avvio di gara dei rossoneri è all'insegna della sofferenza. Il Messina la mette sull'aggressività e sul ritmo e il 4-2-3-1 di Modica sembra inizialmente prendere le misure al 4-3-3 di Cudini. Il Foggia sbanda più volte in avvio e serve un attento perina per negare il vantaggio al Messina. Il portiere mette in angolo sulla conclusione di Zunno. Nel momento di maggiore pressione dei siciliani a passare però il Foggia. Ventesimo il solito Millico sforna un altro assist questa volta per Gagliano che col mancino ad incrociare fa secco Fumagagli e sblocca la contesa portando il Foggia in vantaggio e facendo festa sotto il settore che ospita i circa 300 sostenitori rossoneri. Il Messina non ci sta e prova a reagire poco dopo. Ventiduesimo ci prova Emmausso dalla distanza. Perina è ancora provvidenziale e salva in angolo. Il portiere del Foggia è super al ventiseiesimo e Emmausso controlla con il petto e poi al volo calciarrete Perina riesce con un miracoloso intervento ad intercettare la traiettoria. Al trentottesimo il Foggia riparte Gagliano serve Rolando l'attaccante però si vede negare il gol del raddoppio dal salvataggio con un piede di Fumagalli. Quarantunesimo batti e ribatti prima della conclusione dal limite di Franco ancora Perina è bravo a mettere in calcio d'angolo. Nella ripresa il Messina sembra abbassare i ritmi. La gara muta ulteriormente al cinquantatresimo. Manetta già ammonito commette fallo su Gagliano. Doccia anticipata per il difensore del Messina che resta in dieci. E al cinquantaseiesimo il Foggia di fatto chiude i giochi. Il pressing dei rossoneri costringe all'errore Pacciardi. Millico gli ruba il pallone che Tascone raccoglie e deposita in rete per il 2-0 del Foggia. Tre punti in cassaforte ma non è ancora finita. Settantaquattresimo il subentrato Plescia alla palla per rendere vivace il finale ma il suo sinistro al volo non inquadra la porta. All'ottantunesimo il Messina resta addirittura in nove. Frisena commette un netto fallo su Rolando e viene ammonito applaudendo ironicamente l'arbitro che gli sventola il rosso. Doppia inferiorità per i siciliani che rischiano il tracollo. All'ottantaquattresimo Tonin gancia in aria ma si fa ribattere la conclusione da Fumagalli. L'arbitro accorda tre minuti di recupero e al novantaduesimo il Foggia cala il Tris con una perla di Millico. Conclusione a giro e palla nell'incrocio dove Fumagalli non può arrivarci. 3-0 e giochi definitivamente chiusi. Per il Foggia si allunga il momento magico, per il Messina invece il sogno playoff si allontana.